Dai ragazzi! Mister, allora una partita da un certo punto di vista sfortunata era iniziata bene, nel migliore dei modi, reso in vantaggio ma soprattutto convincente nel primo tempo. Poi forse qualcosa si è spento? No, la forza degli avversari. Forza degli avversari, squadra importante, squadra di alto livello per la C. Noi nel primo tempo abbiamo fatto un primo tempo straordinario e forse non meritavamo di finirlo in pari. Poi nel secondo tempo loro sono usciti e sono andati in vantaggio, potevamo fareggiare però poi in inferiorità numerica era dura rimetterla. Direi che noi abbiamo fatto un primo tempo straordinario, un secondo tempo normale, loro sono stati bravi a tenere botte nel primo tempo e poi hanno dimostrato la loro forza e la distanza. Ecco, quanto è influito questo episodio dell'espulsione di Battarello? Perché gli sembrava che la rezza potesse comunque raggiungere il pareggio, però a che punto? È chiaro, mancava sempre tanto tempo, se rimanevamo in parità numerica potevamo cambiare sistema, ma insomma la potevamo forzare, è chiaro, a cui punto è stato determinante. Cioè il doppio svantaggio è stato determinante l'espulsione, non lo so se la pareggiavamo. Comunque credo la partita abbia detto proprio questo. Ecco, noi il primo tempo siamo andati forse oltre i nostri limiti e abbiamo dimostrato tanta, tanta cosa. Io credo la partita, indipendentemente da sconfitta, ci deve dare convinzione di continuare su questa strada. Non troveremo sicuramente tutti i carraresi. Perché ecco, questa ci ha dimostrato oggi, è una squadra che può lottare la Serie B, ma con grosse possibilità, davvero. Vorrei rimarcare l'aspetto positivo della nostra prestazione, ecco, perché il primo tempo, come abbiamo fatto oggi, è veramente bello, veramente bello. Ecco, andiamo avanti su quel primo tempo là. Il primo tempo poteva finire anche a vantaggio per noi, senza nessuno avrebbe gridato allo scandalo. E se riniziavi il secondo tempo un vantaggio, chi lo sa. Però, se in mano non conta niente, conta che se vista la distanza, la squadra è veramente forte, forte, forte.